Mi vedi? Ok, perfetto. Vi abbiamo chiamato qua perché vi vogliamo presentare quelle che sono le nuove attività dell'Aquiterme Musica. Prima di arrivare all'Aquiterme Musica e Arte, vi spiegherei molto brevemente, velocissimamente, quello che è l'Aquiterme Pro, che fondamentalmente è un programma che abbiamo creato già da qualche tempo e va a racchiudere tutto quello che è il progetto Aquiterme Musica e altre parti. Fondamentalmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un primo progetto di promozione congiunta della città di Aquiterme, dove fondamentalmente tutte le aziende possono lavorare in una promozione congiunta del territorio. Io sono Diego Martinotti, perché non mi conosce, sono referente dell'Ottica Solari per la parte marketing e referente anche di una trentina di aziende qua del territorio. Ad un certo punto ci siamo accorti che per quanta pubblicità potessimo fare cadevamo sempre nell'arco di pochi chilometri, anche se gli investimenti erano importanti. Solo con un investimento congiunto, ovvero tutti quanti insieme, siamo riusciti ad andare oltre, oltre le nostre colline, oltre 80 chilometri, oltre addirittura la nostra nazione. Questo l'abbiamo fatto con Aquiterme Pro, dove le proposte delle singole aziende vengono ramificate sui vari social network, dove mettiamo informazioni, immagini ed offerte. La grandissima differenza è che non lavoriamo più come singola azienda, ma lavoriamo come brand, come Aquiterme. E quindi questa indicizzazione che noi facciamo, la facciamo per la città, con la città e per un raggio che è minimo 80 chilometri. Per fare questo abbiamo suddiviso a canali le varie tematiche della città. Come sapete questo è un po' uno schema banale di quello che è il social, la pubblicità normale si ferma, mentre il social può avere queste ramificazioni, che si chiamano condivisioni o comunque riposte. La fase di test l'abbiamo iniziata nel febbraio 2016, non avevamo budget, l'abbiamo fatta completamente in forma gratuita e abbiamo attivato i primi canali tematici, Aquiterme Eventi, Aquiterme Shopping, Aquiterme Baby, Aquiterme Sport e Benessere, Aquiterme Food and Drinks, Aquiterme Romana, Aquiterme Foto e Aquiterme Musica, che si è trasformato poi in musica e arte. E infine Aquiterme. Queste pagine, tutte quante insieme... Non ho capito? Ah cavolo, non eravate preparati, perfetto. Tutto questo magna e magna che abbiamo fatto, tutto questo circuito diciamo, ha dato nel settembre del 2016 questi risultati qua, senza applicare nessun costo. E' stata solo una cosa, come si dice, naturale. Fondamentalmente chi partecipa ad Aquiterme Pro? Aziende, professionisti, associazioni, enti, istituzioni, studenti ed esperti. Tutti quanti hanno un editing diretto su queste pagine. Cosa vuol dire? Che il contributo che viene dato alla singola pagina è proprio il contributo che dà l'azienda stessa. Io ho da dire delle cose, lo posso ripostare sulla pagina. Questo crea contenuto. Io creo contenuto, tu crei contenuto, lui crea contenuto. In questo modo la pagina è sempre attiva. Naturalmente si possono postare delle cose secondo delle linee guida. Quello che abbiamo fatto ad un certo punto è mettere un budget, che questa è la cosa che forse ci interessa di più in questo momento. Ovvero abbiamo detto, benissimo, questa cosa che abbiamo fatto, e vi dico soltanto che in agosto abbiamo chiuso con 10.000 contatti da tutto il mondo, abbiamo detto, beh, siamo riusciti a fare delle cose senza metterci niente. Se incominciamo a metterci un budget, dove possiamo arrivare? E quindi ci siamo dati un budget. Chi se l'è dato? Noi aziende che partecipiamo a questo progetto. E quindi ci tassiamo, tra virgolette, diamo una quota a testa, che va a creare un budget promozionale, che viene speso per tutorial e assistenza della pagina, promozione a pagamento, manutenzione contenuti. L'ultima parte che prevede il progetto è quello di promuovere la città di Acquiterme tramite quelle che sono i professionisti e gli studenti. Quindi, se c'è qualcosa che è particolarmente interessante sulla città di Acquiterme fatto da professionisti e studenti, il compito di Acquiterme Pro, quasi con uno spirito filantropico, è quello di promuoverlo. Perché vi dico questo? Perché questo è quello che sta succedendo e che vi presentiamo stasera su Acquiterme Musica. Quindi, il progetto di Acquiterme Musica è proprio questo. Cioè, creare un canale di comunicazione sulla musica e l'arte, dove le aziende che partecipano al progetto Acquiterme Pro, riconoscendo questo valore, lo finanziano. Ok? Perché ho fatto tutto questo giro? Proprio per questo. Dovete capire che cos'è Acquiterme Pro, per capire che c'è qualcuno che finanzierà quelle che sono le vostre attività, come musicisti, come artisti. Perché questo? Perché facendo crescere questi canali, indirettamente, crescerà anche la possibilità di visibilità delle singole aziende. E mi sembra un compromesso più che ragionevole. Ok? Le nuove attività dell'Acquiterme Musica saranno superiore a quelle che sono state in questo momento, che sono state, alcuni di voi hanno un editing già diretto sulla pagina, quelle che sono state fino adesso è stato quello di prendere i vari contenuti che venivano fatti dalle varie band, dalle varie esposizioni, gli eventi, di tutto quello che succedeva nella città, noi lo prendevamo e lo canalizzavamo sul canale, e finiva lì, però non creavamo contenuti, cioè quello che voi facevate, noi lo ricondividevamo, e gli devamo visibilità. In questo modo la pagina è cresciuta, ma molto poco. In questo momento, il ragionamento che si vuole fare è l'opposto, ovvero dire, benissimo, creiamo dei contenuti. Naturalmente, quello che noi andiamo a fare, e metto le mani avanti, è la creazione di contenuti virtuali, ma non per altro, è perché il nostro mandato, la nostra possibilità, si ferma fino lì, per il momento, ovvero quello di riuscire a promuovere la musica e l'arte acquese in una fase virtuale, perché per la fase reale, ovvero i concerti, i locali, tutto quello che può essere un'idea di promozione reale, naturalmente sapete bene che ci sono altri costi e altre dinamiche che devono essere avvantaggiate da terze parti, che non siamo noi, purtroppo. Noi, quello che possiamo fare è nel momento che qualcuno ha un progetto che si sposa con quello del canale, è lasciargli libera accesso al canale e potergli agevolare quella che è la promozione dell'evento. In questo caso, la condivisione è la prima cosa, la seconda cosa che abbiamo creato è l'Open Jam, e adesso io vi lascio la parola a Simone, che è sì un evento che noi facciamo all'interno dei locali, ma l'idea di massima è anche lì, come se fosse un palco aperto a tutti, dove c'è la possibilità di promuovere i propri progetti musicali. Ok? Ok? Sì, grazie della parola Diego, grazie e ringrazio di nuovo per la partecipazione altrettanto. Allora, due parole brevissime anch'io, tanti di voi ci hanno già visti per far capire che cos'è l'Open Jam. L'Open Jam, diciamo, è un braccio del corpo Acquiterme Pro e del corpo Acquiterme Musica, quindi è contenuto dentro Acquiterme Musica. Da dove nasce? Nasce sostanzialmente nel più classico degli scantinati, dove un giorno ci ritroviamo e ci diciamo ma perché non facciamo una bella situazione, così mi piace definirla, che sia un pochettino diciamo portatrice sana di musica. Cosa vuol dire? Proporci ai locali, fornirgli un servizio veramente a 360 gradi, compreso di foto, quindi servizio fotografico e registrazioni audio-video full HD, con un palco completamente attrezzato, in modo tale che quello che abbiamo pensato potesse essere la vera rivoluzione, il pubblico in realtà diventa il vero protagonista della serata, ossia il pubblico sarà verosimilmente formato da, o meno così si spera, creando una sorta di circuito, da musicisti, cantanti, strumentisti di qualsiasi estrazione. La jam session, molti di voi, sicuramente tutti voi sanno che cos'è, è fornire un palco di strumentazione adeguata, diciamo, chiamiamola standard, e a disposizione appunto di chi voglia prendere posto sul palco e partecipare alla serata in una jam session, quindi mescolarsi musicalmente nelle armonie che si verranno a creare, che poi durante la serata ci sia una parte un po' così naturalmente recitata, di cui ne faccio le veci io solitamente, per invogliare, comunque coinvolgere le persone, questo è un altro discorso, però in sé per sé la jam sarebbe palco, io ho portato questa esperienza dall'estero dopo un periodo di trascorso all'estero e vedevo che era una cosa veramente all'ordine del giorno, come noi abbiamo bar normali nelle nostre città, altrettanto all'estero ce li hanno, però magari funziona che tu entri, hai il tuo palco già bello attrezzato, ma lì è quasi il quotidiano, diciamo così, allora io ho voluto cercare di portare un pochettino di quotidianità, sicuramente in passato sono già state fatte queste cose, non so in acqui, non so quante volte, però mi sono ritrovato 4-5 anni fa a cominciare a fare delle jam session in locali più svariati, di acquiterme, e da lì diciamo un annetto fa circa, è nato questo desiderio di far crescere un pochettino questo bambino e farlo maturare un pochettino e di dargli una conformazione un pochettino più professionale. Se avrete piacere il 21 di dicembre saremo ad Alessandra e allo Zogra per chi vuole venire a curiosare o a ripartecipare perché alcuni di voi so che hanno già partecipato e saremo felici ovviamente di avervi tra il pubblico e come ho detto pubblico partecipante. Cosa aggiungere? Noi ci diamo l'obiettivo di cercare di uscire ovviamente anche dal territorio acquese questo non vuol dire trascurare il territorio acquese perché riprendendo il discorso di Diego la brendizzazione riguarderebbe sempre comunque a cui Terme Pro e a cui Terme Musica e tutte le attività in esse correlate e con esse i vari imprenditori o le varie imprese che appunto finanziano. Ora adesso lascio anche poi ecco una cosa importante che abbiamo aperto dal discorso Open Jam è il progetto Open Space che è una piccola un piccolo mattoncino in più che aggiungiamo sempre al discorso musicale legato a Open Jam che cos'è? È una specie di live streaming ossia per gli amici chiamiamole intervista per capirci meglio dove poi presenterò Massimiliano che ci raggiungi qua avrà farà le vece appunto dell'intervistatore più che altro della persona curiosa ossia intervisterà e lascerà spazio agli ospiti che avranno piacere nella maniera più libera totale di presentarsi davanti alle telecamere raccontareci un pochettino di loro e eventualmente anche esporci un breve qualche brano di presentazione e via dicendo che poi noi ovviamente tutto registrato e promosso manderemo su questi canali quindi è tutto un circuito che si lega da solo in qualche modo per fare un esempio pratico il nostro obiettivo è quello di arrivare a portare sì le date della open jam sparse in acqui nell'alessandrino ovviamente dove la gente ci vorrà ma è quello anche di fare prendere come volano questo progetto open jam per promuovere la musica di cantante orato e tutti tutti i gruppi che hanno degli inediti da presentare o dei cd che devono uscire o comunque delle attività proprie ecco massimiliano se in alto vuoi raggiungere il palco diciamo così vera e maniera tema e lascio un attimino poi la parola a te massimiliano sarà quello che si occuperà delle interviste chiamiamole così che saranno in live streaming probabilmente su questo stiamo lavorando l'intenzione è quella di partire diciamo così dalle prossime date se riusciamo già dalla data del 21 dicembre altrimenti comunque con l'inizio dell'anno dovremmo chiudere il cerchio massimiliano presentati due paroline allora io mi presento semplicemente per il fatto che credo di dire quello che era il tuo pensiero sono stato scelto per il fatto che vengo da fuori e quindi tutto quello che vedo io lo vedo come nuovo e lo vedo come qualcosa che è nuovo per me e quindi nel momento esatto in cui vi porto in un live streaming io non lo faccio con un'intervista in cui vi chiedo chi siete e mi preparo qualcosa su di voi ma lavoro con voi su quello che veramente fate che questo credo sia l'idea poi fondamentale di open space da cui poi viene l'open jam io creo e da quel momento lì con voi lavoro sul creare qualcosa di nuovo e di live in quel momento lì mandato poi in live streaming prende tutta la visibilità naturalmente che ha il col social eccetera eccetera io non sto a presentarmi se verrete ci vedremo là e vi dirò chi sono non è inutile che sto qua a fare tanto quindi ti lascio la parola a te ok si concludo dicendo appunto che per concretizzare queste situazioni qua noi non faremo altro che metterci in contatto forse avete visto all'ingresso ci sono dei piccoli dei bigliettini chiamiamoli da visita dove trovate sul retro il numero di appunto di riferimento open jam che comunque fa riferimento sempre a tutto il canale di cui Diego aveva parlato prima per cui raccoglieremo i contatti chi avrà piacere non esita a chiamarci a telefonarci per fissare appunto questo appuntamento di questa di questa intervista e noi saremo più che contenti di contribuire sempre alla promozione musicale della Quese e non solo che girerà appunto su questi canali grazie al sostentamento di Acquitarme Pro penso di avere detto più o meno intanto se poi qualcuno ha qualche domanda Diego se vuoi fai tu l'ultimo passaggio che abbiamo ipotizzato delle varie attività dell'Acquitarme Musica fondamentalmente è vero prima parlavamo con Piero dicevamo la musica quella che si ascolta davvero la musica live non è sicuramente la musica registrata o comunque la musica presa dal telefonino più che altro il problema grosso è che attualmente il bacino d'utenza più grande di qualsiasi età è quello è un dato di fatto possiamo far finta di niente ma è così qual è il modo migliore per promuovere diciamo un gruppo esordiente o anche un gruppo assodato in una sua nuova produzione attualmente sappiamo benissimo tutti che è la parte sia legata all'upload sui vari canali sia quello di un upload e la creazione soprattutto di videoclip musicali abbiamo qua in sala Mario Morbelli lo conoscete ne ha già fatti molti Mark sta iniziando sta iniziando in questo momento Mark Sirito anche lui a fare le sue prime produzioni in fondo alla sala c'è c'è Carlo con la CDM Movie loro principalmente creano quelli che sono documentari docufilm e film e infine c'è l'ottica solari siamo quattro diciamo soggetti che si sono messi a disposizione e per collaborare e creare quelli che sono videoclip musicali con una speciale forma legata al canale Acquitermo e Musica nel senso l'Acquitermo e Musica con l'Acquitermo e Musica abbiamo stipulato quella che è una convenzione e quindi parte della spesa che verrà richiesta per la realizzazione dei videoclip sarà riconosciuta dal canale Acquitermo e Musica Assolutamente c'è un discorso di convenzione quello che fa Acquitermo e Pro è proprio ricercare all'interno di quello che è il territorio delle convenzioni quindi adesso per esempio abbiamo anche in platea Almaci che è un validissimo studio di registrazione potrebbe anche essere quella un'opzione e quindi nel momento in cui un gruppo dell'acquese decide di incominciare il suo percorso all'interno di quello che è il panorama musicale può richiedere diciamo l'appoggio di questo canale e naturalmente questa è una piccola parte è un piccolo aiuto è piccolo perché vuole essere distribuito a pioggia a tutti senza distinzione alcuna di tipo di musica età non importa l'importante è che si abbia la possibilità creare delle possibilità ok e una volta che questo prodotto è stato confezionato perché in primis i musicisti ci hanno creduto i produttori diciamo si sono resi disponibili utilizzare lo stesso canale per farlo veicolare perché ha detto malamente fare un bellissimo video ma noi per primi non abbiamo né le capacità né l'utenza per farlo girare e quindi ricevere anche non solo della soddisfazione ma magari anche dei risultati finisco un attimo la presentazione poi facciamo le domande ok allora in quel caso lì il canale dà la possibilità di essere veicolati sullo stesso e stiamo parlando comunque di una situazione come dicevo prima dell'Aquiterme Pro in senso generale che conta da agosto quasi 10.000 utenze da tutto il mondo e quindi detto malamente il mio video promuove sicuramente la mia musica fa contenuto sul canale e viceversa e tutti quanti insieme in teoria andiamo nella stessa direzione non so se lo staff dell'Aquiterme Music vuole ancora raggiungere qualcosa se no stacchiamo un attimo e ci giriamo tutti uno verso l'altro anche senza microfono e ci facciamo due parole sì naturalmente naturalmente io sto parlando tanto di musica arriviamo sto naturalmente io sto parlando tanto di musica ma la stessa cosa si può visualizzare anche sulla parte arte ok buon grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti